I danni erano ingenti ma ora manca poco al ritorno alla normalità. La casa di riposo di Puos dal Pago sta per riaprire i battenti dopo l'evento alluvionale di dicembre 2020. Siamo fuori dalla casa di riposo di Puos da un anno e tre mesi. Diamo una bella notizia che il 5-6 aprile le nostre nonne e i nostri nonni rientreranno nella casa di riposo. Siamo usciti purtroppo, come ci ricordiamo bene tutti quanti, il 6 dicembre 2020 causa un'alluvione. La casa di riposo è andata sotto a 5 metri d'acqua, 1.8 milioni tra danni diretti e indiretti. Stiamo per finire i lavori, sono lavori importanti perché si rientra su una casa di riposo riaggiornata, riamodernata. Sono state pulite i scantinati dal fango, rifate le linee elettriche, le tubature, sono stati rifatti i pavimenti, le porte. Abbiamo le nuove linee elettriche, le linee telefoniche, le linee Wi-Fi, quindi si rientra. Abbiamo anche cambiato i tre ascensori, quindi un notevole lavoro. Secondo Dalborgo, i disagi patiti dagli ospiti sono figli di una scelta poco ponderata fatta molti anni fa. Secondo me, quando si costruisce un immobile, che in questo caso eroga servizi sanitari, abbiamo costruito sicuro in un posto sicuro. Quel posto lì forse non era tanto sicuro, ma ringrazio la Regione Veneto, che tramite l'assessore Bottacin ci ha girato un altro contributo da 800 mila euro per mettere in sicurezza la casa di riposo per la mitigazione del rischio idraulico. Infine un pensiero agli operatori. Faccio i complimenti agli operatori sociosanitari, agli infermieri, perché per un anno e tre mesi, visto che i nonni li abbiamo dislocati in altre case di riposo, soprattutto la maggior parte presso la casa di riposo di pieve, di calore, di marmarole, per un anno e tre mesi hanno subito un disagio, sono stati a comando, hanno dovuto andare a lavorare a pieve di calore, quindi grazie perché i nostri operatori sanitari hanno tenuto quel clima di famiglia per i nostri nonni, ringrazio la direttrice e tutti gli operatori dei servizi sociali.